soffro di perdita di me ma io beve termine sì! è esattamente così che devi dire bene bene ora fingiamo ad essere altri pesciolini ciao Dory! ehi la! ti va di giocare nascondino? va bene mi piace giocare noi ci nascondiamo tu conti e vieni a cercarci va bene papà no no non papà io sono il pesciolino simpatico che vuole essere tuo amico d'accordo? va bene papà no mi sono nascosta ora conta fino a dieci uno due tre quattro mi piace la sabbia è squisciosa mamma vado a giocare con loro Dory! cerca di controllarti cerca di controllarti della capitale va tutto bene pensa positivo ehi tu trottola oh meno male ciao io sono Dory mi chiamo Hank quanto sei malata? malata? sono malata? e perché saresti in quarantena? oh no quanto mi resta? devo trovare i miei genitori? oh oh non buono cosa? cos'è? che è successo? oh che cos'è? quella lì sono brutte notizie è una targhetta per pesci che non ce la fanno a restare nel parco li trasferiscono in alloggi permanenti in un acquario potete abbassare la voce per favore oh chi è quello? il mio vicino Bailey è qui per un trauma alla testa so che parli di me è convinto di non poter usare il suo ecolocalizzatore ma i dottori dicono che non ha niente che non va tutto quello che stai dicendo di me un ecolocalizzatore? la testa di Bailey dovrebbe emettere un suono e l'eco lo aiuta a individuare oggetti molto distanti oh ma a quanto pare lui deve ancora guarire ora lo so che parli di me davvero non riesco a ecolocalizzare non ne posso più di questa storia oh ma tutta la testa è molto violentamente là fuori guarda quanto è gonfia la tua testa deve essere grossa sei un beluga nooo star male lo so è fantastico nooo sto per dare di stomaco è la corrente della California vorticosa e potente occhio all'onda se devi dare di stomaco fammi un favore vai in fondo al guscio sporci di più che puoi e mira lontano noi lo chiamiamo dire pesci bravo Guizzo e adesso stiamo cercando i miei genitori nella spilla dell'Atlantico il gioiello di Morobè in California esatto come troverai i tuoi genitori? tu ti ricordi che ha spattuano? ricordare non è il mio forte quindi non ne sono sicura ma qualcosa mi dice che sono prevalentemente blu con del giallo è probabile e poi sono sicura di riconoscerli quando li vedrò siamo parenti? a proposito attraversare l'oceano è una cosa che andrebbe fatta una volta sola una sola Morobè in California è la prossima uscita Belly genitori è vivo via 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 lanciati papà non mi spingere nevo addio Vina Blu benvenuti al parco oceanografico unitevi a noi mentre esploriamo le meraviglie dell'oceano pacifico e le incredibili forme di vita che contiene c'è qualcuno? oh ciao mi puoi aiutare? ho perso i miei genitori dove siete? aiuto qualcuno mi aiuti c'è qualcuno? c'è qualcuno? ehi tu ciao sono Dory mi chiamo Hank devo trovare i miei genitori non ho mica la mappa di questo posto una mappa? ottima idea tu mi porti alla mappa e io trovo i miei genitori oh che brava scusate la nostra amica è là dentro smarrita sola spaventata noi conosciamo un modo non preoccuparti Gerald scendi dallo scoglio forza lo sai che non devi forza via 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 non preoccuparti di nulla ti aiuterò a trovare i tuoi genitori davvero? ti aiuteremo tutti Bailey usa l'ecolocalizzatore mi sento stupido Bailey scusa ok andiamo a tutti i ricordi che aspetto hanno qualcosa mi dice che sono prevalentemente blu con forse del giallo è probabile dove siamo? la baglia delle dittate dittate? attenti scusa ma è probabile che è stato un'entrazione del giallo? non è la mia mamma non vedo un accidente dove andiamo? vai a destra sinistra no 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 destra destra che non è lo sgrassatore, quello è Chanticleer, invece questo è il nome di un gallo. Praticamente dopo il gran successo di Biancaneve, Walt Disney vedeva la storia di questo gallo vanitoso come un biglietto vincente per continuare il suo successo nell'animazione. La storia era abbastanza semplice, Chanticleer è il re del pollaio perché gli altri animali credono che il suo canto faccia sorgere il sole, ma questo film fu fermato durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi niente. Un altro film rimasto nel cassetto è Newt, originariamente programmato per l'estate del 2011, racconta la storia d'amore di due anfibi. La Pixar all'inizio l'aveva posticipato per il 2012, subito prima di Ribelle e The Brave, che pure ha avuto i suoi problemini. Ci sono storie contrastanti sul motivo per cui alla fine Newt si è finito nel mucchio dei titoli Disney abbandonati. John Lasseter ha dichiarato che la storia era troppo simile a quella di Rio della Blue Sky. Ci crediamo? Non lo so. Anche Dumbo è scampato per un pelo a un seguito nel 2001, prima che Tim Burton lo prendesse per le orecchie e annunciasse il suo prossimo remake in live action. Dumbo 2 sarebbe iniziato il giorno dopo rispetto a dove eravamo rimasti con l'originale. Cosa ne pensate? Forse è meglio che sia stato cancellato. Siamo sicuri che abbiamo bisogno del remake in live action, anche di questo. Forse Tim cambierà ancora idea? Non lo so, vi farò sapere. Un altro progetto abbandonato, almeno per ora, della Disney è Wildlife. I talenti vocali di Katie Tess, Alan Cumming e Deborah Messing sono stati presi in considerazione per i personaggi, che secondo la leggenda dell'animazione Floyd Norman erano una bizzarra rappresentazione di Andy Warhol e delle esperte di moda Anne Wintour e Diana Vreeland. La Disney era convinta che questa rivisitazione di Pig Maglione avrebbe battuto ogni concorrenza, però dopo averne presentato delle parti nell'estate del 2000, il film venne improvvisamente cancellato per il suo humor un po' troppo adulto e sembra che Ron Disney non fosse particolarmente convinto del doppio senso riguardante la parola manhole, in italiano trombino, tombino, sì. Per questo devo dire che mi dispiace un po'. Cosa ne dite? Nella descrizione trovate il link all'articolo con altri film Disney mai realizzati. Per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo video in cui ci saranno tantissime altre curiosità. Ciao a tutti da Valeria. Grazie a tutti.